eh si fortuna è impazzito si lo so che ci sono le due che skin era questa ombra ah ho capito figa ah oh shit what the fuck figo no vabbè ah non vedi che cazzo ammazza che figa oh belle basta adesso ho rotto il cazzo oh shit brother oh mio dio beh questo che fai non lo compri 1800 no vabbè spettacolo spettacolo da scioppare ragazzi questo lo dico codice creatore vg trattino che coppa da scioppare ok qua si mette qua vg trattino accetta papi se volete fanno scioppamento anche voi fai centro cosa uh dietro sto qua vabbè vabbè sono carini eh si sblocca ok ok ah guarda che figo raga hanno messo un sacco di roba cazzo guarda aspetta messo un sacco di roba tra l'altro mi sa che è cambiato pure sta cosa vedi modifica stile si lo vuoi rosso ma madonna le jordan c'hanno no vabbè si esplodo fighissime raga figo un culo come dico io figo un culo vabbè 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 ci sta per due skin 1800 ci sta inizialmente questo questo pure figo bilo figo 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 bilo bilo sono molto eccitato dove sta ecco metto questa prima allora che hanno messo fai centro in centro vogliamo provare questa a me dai un attimo sta canzone che cos'è questa modalità vai in centro e lascia parlare la tua abilità metti mostro le tue mosce nella matta fai centro in centro bai jordan madonna ispirata a new york come sviluppatori creativi not nell'off segui salti giganteschi ma c'è una la città e raccogli monete per vincere ah proviamola dai proviamola dai we're at a trap killing spree right now dude that's three straight that's literally a trap killing spree in dota that'd be the big killing spree oh the cape got in my way can we make it four in a row uh-oh oh no he broke it all down he forgot who he was fighting wait are ballers at a comp now or what the fuck i just got ballerbopped that's through his wall okay come di belle raga allora voi cosa ne pensate di di questa collaborazione per chiedere se c'è qualcuno che segue magari le mie in generale vabbè magari comunque però il vestiario da baschettaro comunque jordan in generale mi piace come idea che abbiano fatto una collaborazione con un brand di appirel cos'è split gate un gioco e sport assolutamente super competitivo innovativo molto figo mi piace come le dovrebbero fare di più queste cose lo sapete con il brand di appirel secondo me la migliore collab mai fatta e non sto scherzando lo sai che effettivamente le skin fatte sono veramente veramente fighe cioè le skin sono assurde parliamoci chiaro le skin sono veramente veramente troppo fighe quindi cioè ve le faccio vedere al volo va andiamo in secondo ve le faccio vedere queste sono le skin con la skin chicago eccolo qua questa è con la skin chicago allora quella del maschio è bellissima pure quella della donna è bellissima che sono fantastiche ragazzi queste due veramente secondo me è veramente figa questa cosa che hanno fatto le skin sono veramente veramente belle 1800 vbucks per due skin con quattro stili quattro stili comunque queste sono le mid mentre queste qui sono le ma che cazzo si chiamano sono le high legit assolutamente super legit anzi allora vi faccio vedere nello shop eccoli qua 1800 e te ne danno entrambi più le sfide a 1800 vi faccio vedere pure gli stili va edit allora questo è lo stile rosa bellissimo poi c'è questo qui lakers bellissimo e poi abbiamo il mio preferito stile chicago full match full match oh shit hold'em hold'em I need to reload one on top, in the open on top Get out, get out, get out Never hide, timing this guy, 30 Dead, all my guy, romg in him Tagged him, 100 Rifted, rifted, big Fogged rifters Tagged him Tagged him as well Dead, nice, get the match Yeah, get the shit Loading my heavy, you have to move I have a lot of match I have two launch pads I don't think they're teammates We can go right down here I'm with you, I'm with you, right behind me Hold him, hold him Oh, you killed me I'm dead, I'm dead Wait, how did that happen again? You edited something I think, or someone Oh, dropper, you killed me Nice Good shit 2G I'm with you, right behind me Okay, CTR Chi viene a giocare? I'm with you Ah, devi tipo nerdarci come un drago Okay, devi tipo comprarle E poi fare le sfide Che sfide inutili sono? Che sfide inutili sono? Dipende che sfide sono Che non ho mai voglia di farle Con queste qua? Gioca tra i giochi creativi Cambia il colore di 100 unità Che sta stronzando? Raccogli 50 palloni da basket In modalità creativa Cambia il colore di 100 unità In modalità creativa Grazie di 70 bits, bro Gioca tra i giochi creativi Qualsiasi